Grazie Olanda! Grazie Olanda! Grazie Olanda! Grazie! Godimento puro! Godimento puro! Grazie Olanda! Che bello! Ma una cosa più bella non può esistere, è inutile, il calcio scrive delle storie troppo belle, c'è in un gruppo con Francia, Germania e Olanda, il gruppo va a finire da sogno, primo posto gli ultra simpaticissimi olandesi, grande simpatia per questa nazionale, per queste persone, gli olandesi sono molto simpatici, primo posto Olanda e poi tra Germania e Francia preferisco una retrocessione da parte della Germania perché hanno aperto troppo la bocca in passato, c'è il gruppo dei sogni, terzo posto Germania e te ne vai in serie B, secondo posto la Francia, quindi Francia ti resti a casa, non vai alle Final Four e l'Olanda è prima e tutto ciò in una partita che sembrava oramai segnata, al fine all'ottantacinquesimo l'Olanda stava perdendo 2 a 0 in Germania, poi all'ottantacinquesimo 1 a 2 e al novantesimo, grande Olanda, grazie, godimento puro, godimento puro e io godo, 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 godo. Avete visto Depay? Che giocatore ragazzi, avete visto ora? Altro che c'ha la minchia, meglio Depay, meglio. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, andiamo a Nanna con un grande godimento, godimento puro, ciao ragazzi.